Ma come cazzo giocano? Ma come cazzo giocano? Sono una squadra fenomenale, ragazzi a tratti sembrano veramente una prima della classe, incredibile, sto parlando di Atalanta-Fiorentina che nel giro di pochi giorni si sono scontrati due volte, prima il Franchi, attualmente ovviamente in casa dell'Atalanta, 3-3 l'altro giorno, attualmente siamo sul punteggio di 3-1 per l'Atalanta. Ma ripeto ragazzi miei, gol di Muriel a parte, che è stato un errore del centrocampista dell'Atalanta, forse di Deron se non mi sbaglio, mi pare proprio lui che gli ha praticamente regalato il gol, per il resto l'Atalanta è andata a crescere durante tutta la partita e ha buttato dentro ben tre palloni, ma fate attenzione perché poteva farne almeno altri due. C'è da dire che da entrambe le parti i portieri del loro lo hanno fatto, perché comunque Gollini ha fatto qualche intervento abbastanza importante, ma dall'altra parte ragazzi, soprattutto nel primo tempo, la Font si è fatto trovare pronto. Detto questo, Atalanta che si rilancia in classifica a 41 punti, aggancia il Torino e momentaneamente anche la Lazio che però deve recuperare, come ho detto oggi pomeriggio negli altri post partita, la partita contro l'Udinese. In ottica Europa League, mi permetto di dire, potrebbe essere un ottimo balzo in avanti, ma là le pretendenti iniziano ad essere parecchie. Ovvio che non è che tutte possono andare in Europa League, ci andrà chi dimostrerà da qui alla fine della stagione di essere più in forma, ma soprattutto di tramutare la forma in punti. Sembra che ho i capelli più chiari, non so per quale motivo, ma in realtà sono sempre gli stessi, non lo so, sembra che mi ha cagato in testa una vacca, ma va bene così. Mi fate sapere che cosa ne pensate nei commenti, perché Ilicic sontuoso, Papu Gomez che ha fatto un gol di quelli esagerati, si complice, un giocatore della Fiorentina che cade a terra, non mi ricordo chi, mi pare Pezzella, lo salta in buca. Però questa è stata una rimonta di qualità, Gasperini non lo sta dimostrando da quest'anno, è già un bel po' di tempo che lo sta dimostrando. Qua non è questione dei giocatori che c'ha, perché poi gliene tolgono tre o quattro all'anno, perché li vendono per far plus valenza, li sostituisce ragazzi miei e questo macina gioco, macina gioco che è una meraviglia. Ogni giocatore, la cosa bella del gioco dei Gasperini è che anche i difensori praticamente li ritrovi in fase offensiva. Mancini oggi ha sfiorato il gol, sono giocatori importanti, sono giocatori veramente importanti che possono dare del filo da torcere a chiunque. Lo ha dimostrato proprio l'Atalanta contro la Juve in Coppa Italia, gliene ha fatti tre. È un segnale ragazzi, significa che questa squadra, a parte il fatto che non c'ha paura da nessuno, ma giocano senza pensieri e riescono poi a tramutare quello che è il gioco senza pensieri in reti. Fatto stacca nel giro di tre giorni, hanno fatto sei gol a Fiorentina, ambevole di incazzo. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale qualora non lo aveste ancora fatto. Stasera c'è il Napoli-Juventus, ovviamente ce la guarderemo insieme e ci farò un bel post-partita dedicato. Sarà una partita, mi permetto di dire, da dentro o fuori, nel senso, da dentro perché dovesse vincere il Napoli, ovviamente rosicchierebbe qualche punto alla Juventus, ma sarebbero comunque dieci di differenza che sono pur sempre tanti. Dovesse vincere la Juve, ciao. Paolomino ha munito in questo momento, ma c'è poco da dire, secondo me cambia poco se fa un gol a Fiorentina, cambia poco se fa un altro gol dell'Atalanta, ha meritato la vittoria. C'è poco da dire, Fiorentina che, a parte il gol de Muriel, rispetto all'Atalanta ha fatto veramente poco. E per lunghi tratti della partita, ragazzi, l'Atalanta gioca talmente in scioltezza che veramente sembra una prima della classe, sembra il Valcellona, porca puttana. Giocano veramente da Dio, io non so come cazzo fanno a giocare così, ma sono veramente forti. Merito di Casperini? Ovviamente sì, ma c'è pure, ragazzi, un organico veramente di quelli duri, duri, duri. Ecco, ciao ragazzi, ci vediamo dopo.